Stai scrivendo un romanzo? Ecco undici strategie per scrivere una trama avvincente. Partiamo. 1. Usa la struttura aristotelica in tre atti. Se per millenni abbiamo raccontato le storie in un certo modo, ci sarà un motivo. Molto, molto, molto riassumendo. Nel primo atto abbiamo l'introduzione dei personaggi principali, allo scopo di fornire le informazioni essenziali, ovvero il mondo ordinario del protagonista. Di solito si chiude con una falsa soluzione che sembra avere risolto apparentemente il problema. L'azione però messa in moto dal protagonista non è sufficiente a ristabilire l'ordine. Nel secondo atto abbiamo lo scontro e la lotta. Il protagonista affronta le conseguenze della falsa soluzione nel primo atto, definisce e interiorizza il problema e lotta per risolverlo. vengono disseminate delle complicazioni e degli ostacoli per tenere alto il ritmo. È l'attenzione del lettore e, dato che il protagonista non si rende conto dei propri limiti ed errori, il secondo atto si chiude con una situazione critica per il protagonista. Nel terzo atto abbiamo risoluzione della crisi, cioè risponde a tutte le domande aperte nel corso della storia e chiude trame sotto trame. Il conflitto è risolto e il protagonista raggiunge una nuova consapevolezza di sé, riconoscendo il proprio fallimento e superando il dilemma interiore. 2. Inserisci un conflitto. Senza conflitto non c'è storia. Come dicevamo prima, nel primo atto il protagonista deve superare uno o più conflitti per raggiungere il suo obiettivo. Il conflitto narrativo è il vero motore della tua storia, perché fa avanzare la trama, partendo da un equilibrio ormai spezzato. Inoltre, contribuisce a caratterizzare i personaggi che devono prendere appunto consapevolezza di sé e superare le proprie debolezze. 3. Crea una domanda a cui il lettore cerchi risposta, ovvero la domanda drammaturgica principale. 4. Sii coerente, cioè rispetta una logica interna in cui una volta che tu hai stabilito le regole che governano il tuo mondo immaginario, non vengano trasgredite. Quindi coerenza. 5. Crea una scaletta. Quando cominci a usare flashback, flashforward, digressioni, è facile perdersi e cadere in incoerenze e sbagli. Un semplice elenco puntato e numerato degli avvenimenti principali della storia in ordine cronologico può salvarti da questo tipo di errori. 6. Arricchisci il romanzo con sottotrame. Quante sono le trame possibili? Ci sono diverse teorie. Ad esempio, secondo Christopher Booker, autore di The Seven Basic Plots, sono appunto soltanto sette. Comunque, le sottotrame estendono, complicano e offrono un diverso punto di vista sul tema principale della storia, aiutano a spiegare alcuni punti cruciali della trama principale, accrescono le tensioni e migliorano il nostro livello di comprensione dei protagonisti. 7. Crea un desiderio forte per il tuo personaggio. E ricorda che motivazione e giustificazione sono elementi diversi. La motivazione è il vero desiderio ardente del tuo protagonista. Per costruire una buona trama, accertati che il tuo personaggio abbia un'idea chiara di quello che sia il suo obiettivo nella storia. 8. Struttura ogni capitolo. In un romanzo, un capitolo è un tassello narrativo funzionale al contesto più ampio di tutta la storia e deve aggiungere qualcosa alla trama. domandati quindi quale sia il nucleo del capitolo. E in linea di massima anche un singolo capitolo dovrebbe appunto essere suddiviso in un inizio, una parte centrale e una fine. Puoi anche interrompere il capitolo sul più bello usando la tecnica del cliffhanger. Quindi lasciando appeso il lettore. 9. Crea relazioni, causa, effetto. Importantissimo. Anche se assistiamo continuamente a coincidenze e cose folli nel nostro quotidiano, nella narrativa non puoi giustificare gli avvenimenti solo perché accadono nella vita. Ogni elemento del tuo romanzo deve avere una funzione precisa e deve rispondere a un meccanismo preciso di causa-effetto. 10. Fai evolvere il tuo personaggio. Il cambiamento e l'inatteso sono due elementi fondamentali della trama. Trame piatte sono dovute spesso al fatto che il personaggio è statico, non segue nessuna evoluzione e il conflitto interno e quello esterno rimangono scollegati. Il raggiungimento dell'obiettivo interno permette al personaggio di raggiungere l'obiettivo esterno e quindi a evolversi. Alla fine della storia il personaggio deve avere appreso qualcosa, deve avere affrontato i propri demoni interiori affrontando il classico viaggio dell'eroe e trovarsi in un punto diverso. 11. E ultimo Usa la tua scaletta solo come canovaccio. Usa la struttura della trama e la scaletta degli avvenimenti principali in modo flessibile, non come una gabbia rigida. La magia dello scrivere è proprio farsi sorprendere dalla volontà dei tuoi personaggi. Conosci altre strategie per scrivere una trama vincente? Scrivilo nei commenti. Grazie.